Un atto di protesta? Da qualsiasi prospettiva la si vede, quanto accaduto sabato pomeriggio scorso è inqualificabile. Non c'è alcuna giustificazione, il coro di condanna è unanime. I rifiuti sparsi sulla strada, in via Rio de Janeiro e in via L'Indipendenza, rappresentano un vero e proprio pugno allo stomaco ad un'intera collettività. Alcuni consiglieri comunali hanno già condannato l'azione commessa da mani ignote. Non possiamo lasciare sola un'amministrazione che pur avendo tanti difetti ha il merito di avere la volontà di cercare di risolvere problemi che affliggono la nostra città da sempre, hanno detto Guido Siracusa, Sandra Bennici, Carmero Casano, Sara Cavallo e Giuseppe Guastella. Per questa ragione sono stati invitati il consiglio comunale e la città a non rimanere indifferenti a reagire come hanno sempre fatto, dimostrando che i giadesi non sono tutti uguali. Stavato scorso sul posto si sono immediatamente presentati il sindaco Domenico Messinese e il suo vice Simone Siciliano. È un atto criminale, un atto criminale dove nella difficoltà, riuscendo in queste settimane con la discarica chiusa a mantenere il decoro, ora che stiamo riuscendo a ritornare alla normalità qualcuno ha pensato bene di utilizzare i rifiuti creando un pericolo per la circolazione. È un atto intimidatore, è un atto mafioso. La cosa più grave è che in un centro abitato nessuno ha visto nulla, in un paese omertoso che poi praticamente diciamo come dobbiamo crescere. Purtroppo sempre quattro stupidi riescono a rovinare un'intera collettività, un'intera città. Questo è un atto che noi giudiziariamente non possiamo accettare. Se qualcuno lo mette come una stile all'amministrazione siamo pronti ad accoglierla ma sicuramente questo è un atto criminale e come tale deve essere messo in evidenza. Vedremo quali saranno i passi da fare nei prossimi giorni. Abbiamo raggiunto l'apice dell'inciviltà di questo territorio. Il comportamento di un gruppo di barbari che ha deciso di devastare un'intera strada spargendo rifiuti ovunque. E' chiaro che l'operazione è un'operazione organizzata su cui non si avrà nessun tipo di tolleranza. Avvieremo le denunce del caso, le indagini che i comportamenti di questo tipo non sono tollerabili. Le sfide all'amministrazione sono delle sfide perse in partenza. Nessun comportamento di questo tipo può essere accettato o accettabile da questa amministrazione. Solo che non è degno di essere giudese può assumere comportamenti incivili e compiere atti di assoluta aviltà. Gesto che noi, prima ancora di essere rappresentanti del popolo, da gialesi condanniamo con fermezza. Lo dice il consigliere comunale di Forza Italia, Salvatore Scerra. Noi crediamo che sia stato un attacco frontale alle istituzioni comunali. Quasi una sfida. Una sfida però che non ha vincitori ma un unico perdente, il gialese. Occorre dialogo adesso. Occorre approvare subito il regolamento che possa finalmente invogliare i cittadini a stare dalla nostra parte, a differenziare, a risparmiare su latari, ma soprattutto punire chi non rispetta le regole. L'amministrazione cambi passo e se attivi da subito al fine di rimediare a questo fenomeno negativo, ispettori ambientali, personale interno e polizia municipale potranno essere delle sentinelle per cercare di reprimere questa incresciosa abitudine, non solo nei confronti di questi cittadini, ma anche della società che gestisce rifiuti in città, monitorando la regolarità del servizio. Una sfida che va raccolta e vinta a tutela della cittadinanza che orgogliosamente si sente gialese. Per l'esponente di forse tari e scerra, più controlli uguale migliore servizio, uguale maggiore risparmi, uguale riduzione tari.